Sono Simone Giorgino, docente a contratto di letteratura italiana contemporanea. Ognuno di noi sta attraversando in questo periodo una fase nuova, una fase inedita. Ognuno di noi sta sperimentando sulla propria pelle la mancanza di un contatto fisico diretto, quotidiano, con le persone che ogni giorno è abituato a incontrare, ma sta anche sperimentando la mancanza di un contatto fisico diretto e quotidiano con il territorio che ogni giorno è abituato ad attraversare, è abituato a scoprire, è un territorio che ogni giorno ci sorprende, rivelandoci degli aspetti sempre più segreti di sé. Stanno anche girando frequentemente su internet e sui social delle immagini della nostra città, di Lecce, inquadrata dall'alto con dei droni, che ci raccontano una città addormentata, una città ancora molto bella in questa sua bellezza inquieta. Ecco, sono delle immagini che sicuramente rimarranno nella nostra memoria. Come racconto di queste immagini volevo suggerirvi la lettura di un libro di Carmelo Bene che si chiama Sono apparso la Madonna. È un libro del 1983 che racconta fra le altre cose anche il nostro territorio, il Salento, inquadrandolo in una categoria che poi ha avuto molta fortuna fra i lettori, che è la categoria del Sud del Sud dei Santi. E questa è la celebre definizione adoperata da Carmelo Bene, proprio in questa occasione. Ecco, il libro inizia paradossalmente dalla fine di qualcosa, dalla fine del primo atto, nella fattispecie. Ma questo paradosso non ci deve sorprendere perché sappiamo che Carmelo Bene è un autore che vive di paradossi, che fa del paradosso la propria cifra estetica costitutiva. Il libro comincia così. V'è una nostalgia delle cose che non ebbero mai un cominciamento. Affondare la propria origine, non necessariamente connessa alla nascita in terra d'Otranto, è destinarsi un reale immaginario. E lì, appunto, nel primo dì di un settembre, io fui nato. Otranto, da sempre magnifico, religiosissimo bordello, casa di cultura, tollerante confluenze islamiche, ebraiche, arabe, turche, cattoliche, ne è testimone la stupenda cattedrale, il suo favoloso mosaico, figurante l'albero della vita dell'anno 1100. Una tolleranza di sì disparate correnti, come il trascolorare dell'Oiolio, non si è mai verificata in nessun'altra zona d'Italia. Quando si dice Puglia, non si deve mai confonderla con quella fascia del Salento giù giù fino a Capoleuca, detta ancora Magna Grecia, dove fino a pochi anni fa i portuali si facevano intendere nei dialetti indigeni di Calimera, di Gallipoli, eccetera. Ora, il libro poi continua con la descrizione dei luoghi più rappresentativi per lo stesso Carmelo Bene, per la vicenda biografica esistenziale di Carmelo Bene. E quindi si parlerà di Otranto, dove Carmelo Bene ha vissuto a lungo, dove ha pensato ad alcuni dei suoi spettacoli più celebri e dove ha scritto il poema Il Mal dei Fiori. E poi questo racconto ci porta anche a scoprire Santa Cesarea Terme, la città del Palazzo Moresco di Nostra Signora dei Turchi, proprio in quel paese Carmelo Bene ha scritto Nostra Signora dei Turchi, un romanzo del 1966, e due anni dopo girò proprio a Santa Cesarea Terme il film Nostra Signora dei Turchi. E poi ancora Campi Salentina, dove Carmelo Bene ha vissuto una parte consistente della propria giovinezza, dell'infanzia, dell'adolescenza. e ancora Copertino, la città del Santo dei Voli, e San Giuseppe da Copertino diventa per Carmelo Bene l'emblema del Salento, in qualche modo, perché diventa emblema del depensamento, della sospensione del pensiero. Leggiamo proprio questo passo in cui ci racconta, fra le altre cose, l'importanza di questa figura per il nostro territorio. La nostra penisola non ha mai dato grandi fatti del pensiero, se non guarda caso, nel Sud. E qui i nomi di Giordano Bruno, Giambattista Vico, Tommaso Campanella, Croce Gentile. Ora, dove questo pensiero depensa, si spensiera, via via scendendo fino a Capoleuca, lì comincia la Magna Grecia. A Sud del Sud, la Magna Grecia è il depensamento del pensiero del Sud. È il Sud in perdita, il suo guadagno. Anche se umiliato, oltraggiato, vilipeso dalla sciagurata inflazione consumistica, è ancora qui, in questo Sud del Sud è nato il più grande santo tra i Santi, colui che cede la santità stessa, Giuseppe d'Esa da Copertino. Ecco, e poi conclude questo breve passo con una frase che vorrei fosse riutilizzata in questo periodo come buon auspicio per tutti. A questo Sud azzoppato non resta che volare.